io sono red e io sono war e oggi andremo a fare il rate my setup con i vostri setup che ci avete mandato su instagram e dintorni è un video particolare stiamo testando questi nuovi format prima che raggi qui ti ha testo video vi serve a voi che non l'avete mandato per scoprire nuove nuove forma di setup nuove combinazioni dell'equipaggiamento nuovi pattern insomma vi serve per ampliare le vostre le vostre vedute e sempre sotto questo aspetto se il vostro setup non appare all'interno del video non abbiatene male perché e qui vi ringraziamo ci avete mandato veramente tantissime foto ci avete contattato su tutti i social che potevate trovare grazie grandi ragazzi grazie mille ovviamente prima di partire sigla guarda quanto è bello questo setup sai perché è così bello no perché l'ha acquistato da monopolis of the shop forse poteva arrivarci il vostro negozio di fiducia per tutto quello che concerne attrezzatura airsoft tattica militare e tanto tanto altro trovate ovviamente tutti i link in descrizione e vi basta cercare monopoli il primo è il signor gator che vuol dire alligatore non allibratore qui devi un botto di soldi allora io direi che intanto la foto è fatta molto bene e in più il setup è molto tactical cioè molto fico bello il giochino di colori multicam tan il multicam sta da dio col tan piccola tips l'avrei ripreso anche nell'elmetto foto davvero fica tutto warrior mi viene da dire warrior si vede anche nello zainetto c'è quella cosa che tende a morire vabbè ovviamente punti in più solamente perché in fondina safari land ma va bene lo stesso la patch col quadrifoglio avrei apprezzato anche l'nvg sul davanti giusto per far la foto anche se ovviamente indurro non serviva quindi da uno che è pg di fortnite personaggio di fortnite e 10 che è garantam che mette d'accordo anche quelli che non sono d'accordo quindi ultra garantam god saian 3 questo si posiziona non ho visto le altre quindi non ho paragoni però così a pelle otto e mezzo otto e mezzo che sa che garantam garantami mutande è già comunque pericoloso però ok mi piace garantami mutande quindi ok almeno lo dai tu una testa ok così alci alterniamo cesco 451 allora vedo già uno stile un pochino meno tactical dell'altro patch posizionate correttamente bello vediamo se tanti bottoni tanto vecchio però vedo tanti bottoni tanto vecchio anche le tasche per il caricatore non sono bottoni però 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 attenzione l'hai visto l'hai visto c'è il tourniquet nella sacca scrotale che definirò anche se posso la piega che hai fatto alle maniche ti giuro manco sulla camicia la domenica riesco a fare la piega alle maniche così perfetta poi c'è anche un po' quel ghigno mentre impuntamento a dimostrare è un po' veterano è un po' sopra esatto sai cosa mi ricorda vagamente ricorda lo survivors non so questa foto mi ricorda un po' lo survivors qui darei un sette e mezzo perché comunque secondo me è fatta molto bene cioè perde un punticino rispetto all'altro anche un po' forse per qualità della foto io valuterò anche un pochino quello sette e mezzo romano rosa forse si chiama davvero romano rosa foto scatata nello specchio di casa allora io direi che hai due punti plus per le calzature e per l'etichetta del guanto che ti occupa tutta la foto cioè quello è proprio il meme del brother thinker però però è voluto partire carico perché c'è effettivamente tutto sì 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 allora ovviamente beginner quindi secondo me bisogna anche poi giustamente non è che si può pretendere che assolutamente non si può scontrare contro un veterano che gioca da dieci anni no allora io qui darei sette sette è il giocatore di prima che però non ha schiacciato così tanto perché ha anche una vita sociale quindi è based ma ha un paio di skin non tutta la collezione che deve ancora trovare il suddice mi piace mi piace mi piace mi piace marco vallotto vediamo un po' oh 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 ci sono la peppa non solo al teschio sul balaclava sul passamontagna ma aspetta ma non le hai visti tutti ha messo il loghino oro del punisher non solo sul fucile ma anche nell'attacco del nvg per l'etichetta cioè qui c'è una ricerca proprio del gusto vuoi essere invisibile scegliendo il mimetismo pazzesco come multicam black e ci schiaffi sul punisher ora direi non me ne frega niente tra l'altro apprezzabile perché ci sono delle robe molto particolari anche tipo il portacaricatore cosciale che per quanto io trovo molto scomodo sembra un clean up è interessante cioè non è una roba trita e ritrita poi bello anche che il fucile abbia questi intarsi ora il resto ovviamente eotec più magnifier ballots oh 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 allora per me questo è un 8 un 8 pieno anche forse qualcosina di più però non lo so c'è qualcosa forse è un po' pacchiano per i miei gusti cioè molto cod c'ha molto quegli elementi se avessi dato io il voto era diverso io sono più pacchiano di lui ok davide hazbenico hazbenico molto plain cioè molto semplice ma funzionale ti giuro secondo me sono meno plain io in pigiama è davvero è davvero figo è minimal vero però allora è semplice però allo stesso tempo non ci sono cagate è estremamente minima beh oddio la radio è così a penzoloni davanti cioè si vede che è molto esterna alla tua linea di profilo quindi io l'avrei messa da un'altra parte ha anche non agli agganci per poterla mettere più su perché ha solamente i camera bound quindi è letteralmente appesa al camera bound carino anche il verde tan cioè l'olive e il tan sì sì coloro li piacciono anche a me io io do un 7 e mezzo anche a lui perché nel suo semplice 7 e più 7 e più no no dico cioè è come 6 e meno no ma è quel voto che vorresti dagli 7 e mezzo però però non c'è ancora arrivato senfagotti senfagotti allora allora è molto più bello davanti che dietro allora partiamo dal davanti andiamo per gradi allora questo è palesemente un fan dell'old school cioè pseudo old school quindi Rani, Rack tu hai visto Art Locker almeno 4 volte e per me ci sono dei punti a favore perché oltre ad essere un pochino più scomodo però è abbastanza curato ci sono un po' poche tasche secondo me eh ma di fatto dipende che ruolo ha perché se è molto realistico dipende sì vediamo dietro ecco quello zainetto lì ti fa perdere dei punti è tema ragazzi vi prego basta fare le foto in bagno cioè ho dovuto scartare una marea di foto perché mi mandate le foto con la tavoletta del cesso alzata sono inguardabili siate educati abbassate la tavoletta in giardino mamma mi fai una foto in giardino e vi fate la foto quindi voto è tuo è sempre mio però tu non me lo chiedi io mi devo fare tutto il suo quindi che voto diamo? bisogna essere onesti ti do un 6 e mezzo che però può diventare 7 se non la fai in bagno e se togli lo zaino e se togli lo zaino è l'equivalente classico come dice a me del 7 e più è intelligente ma non si applica cioè nel senso sei sulla buonissima strada non ti penalizzo per aver scelto questo tipo di roba qua perché comunque è accurata però lo zaino no il bagno per me no prossimo giro prossimo premio papagian soft air c'è del colore qua vedo del rosso a parte la fascetta però il guantino mechanics c'è il guantino mechanics c'è la replica abbastanza buona c'è della patch rossa bro ah ma la glock in fondina allora sono dei punti in più chiaro devo darlo io il voto però la patch rossa occhio perché ho fatto vittime in campo solo per le patch troppo visibili mi piace molto questi sono jeans con gli inserti per le ginocchire sono jeans da pallavolista si perdeva si perdeva ma c'è molto bello molto bello compensa il fatto che non capisco che partner sia la metica per autismo mio ma tanto il voto lo do io quindi i cazzi miei 7 7 gli stessi voti però 7 che cos'è? 7 è scusami non era appropriato non era veramente cioè questa cosa è veramente una mancanza di rispetto abbiamo dovuto scartare alcuni precedenti a questo gran galà perché o ci avete mandato le foto solo col setup aperto per terra benché sia nel video che sul realistagram diciamo che dovete farlo a corpo cioè ho fatto proprio l'esempio in setup per farvelo capire o perché ci avete mandato delle storie che erano dei video quindi noi non li potevamo utilizzare ho comunque screenshotato alcune delle storie giusto per avere la possibilità di includere più persone possibili uno di questi per esempio è albis albis silente se vedo un altro spec a minca io comincerò a penalizzare chi importa il multicam cioè ragazzi non ne posso più di sto multicam cioè veramente ci sono 200.000 altri fatemi il vegetato marpa poi non è brutto per l'amor di dio benché ci sia penso quello che penso essere o un portaboraccio o un portapallini giusto in cintura sta iniziando quindi non sarò non dobbiamo essere troppo cattivi no il calcio gliel'ha cambiato perché non penso che possa originare no non credo neanche io un calcio è anche bello che voto diamo? sta a guardare il contesto è lì che zooma sui lati per cercare un rubinetto del bagno una tavoletta alzata sarò onesto sta iniziando quindi ti do un mezzo voto in più ti do sei e mezzo e dopo questa saremo molto più cattivi sufficiente con gente che gioca da anni che fa questo dalla mattina alla sera quindi rega dovete baciarvi i gomiti vogliamo essere molto cattivi c'è nel senso perché altrimenti non è divertente non prendetevela male per questo video arriva a 1500 like che sono pochissimi quindi mi raccomando ne faremo un altro dove potete partecipare di nuovo lo dovete poi dire comunque vi faremo la storia e potete partecipare di nuovo così che c'è un anzi nel prossimo ci sarà anche il vostro voto daremo il via al televoto sulle storie Instagram bello Emiliano è una C o una T? è una C 100 mani 100 mani ricaricarai velocissimo 100 mani poteva essere foto bella bei colori allora un po' vecchiotta cioè secondo me sono robe che si usano nel soft air un po' che ora sono diventate un po' cheap un po' vecchiotte allo stesso modo non ci sono degli errori grossi carino anche il moschettone lì il ptt secondo me è un po' in basso io lo trarrei leggermente più in alto soprattutto perché questa è una foto in urbano quindi è bello è un po' vecchiotto quindi io do un 8 meno non l'ho ancora dato 8 meno secondo me però è un po' 8 meno si bisogna dall'altro essere un po' severi con chi si vede che è avanti ragazzi perché toro castranuovo castronuovo molto molto tumble questa questa foto si fa molto 2015 ce n'è un'altra che riprende si è sempre adesso giudichiamo la macchina però basta giudicarla però però Urgi Giorgi Porgi Urgi con PTS 250 e molto figo Maverick abbia tutta la pecciona davanti che racchiude tutto quindi non ha varie patch ma il nome di squadra la patch italiana il gruppo sanguigno allora Maverick molto bello ma molto bello davvero tra l'altro non multicam e per quello stavo proprio per dire bello anche il pattern che è un vegetato tra l'altro si vede che c'è qualche caduta qua e là taschina porta radio un po' cheap va bene punto è sui colori perché hai messo un Ranger Green 1D dell'Invader MK2 si poi sei passato al vegetato poi ci hai messo il tan sopra il vegetato non vorrebbe proprio il tan anche se lo fanno in tantissimi voto no per me è un 8 sai perché è un 8 io volevo darti 8 meno come lui però ho zoomato sul flash killer dell'Hakog che cazzo nessuno sa che quello è davvero il flash killer dell'Hakog quindi anche il fucile è molto bello ovviamente quindi c'hai quel mezzo punto in più ok Davide Bonora oddio c'è un po' di tutto qui ci sono allora se questo era un hack no beh sì guarda come ha fatto passare la roba sì 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 allora beh però l'orologio io l'avrei girato lo stesso anche il fucile è pitato bene il fucile è pitato molto bene questo è quasi a livello di Hornets of Terror allora senza star qua a tirarla molto lunga io qua darei un no beh ragazzi c'è anche anche la barba cioè è tenuto veramente molto bene ed è funzionale ben conservato perché cioè non potendo andare a dire io preferirei questo che l'altro perché è un Renac cioè come il ragazzo di prima che era vestito da Iraq cioè se fossi nel primo mi sarei offeso questo può ambire quasi al 10 guarda la patch eh lo sai cioè guarda si è trovato la serie Shadow della Defcon quello lì secondo me è il tattico della serie Shadow della Defcon no no ragazzi questo è veramente tanta roba eh fanno vedere la replica eh vabbè dai vabbè però 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 l'elmette è un po' spoglio però per il resto oh 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 signori qua stiamo toccando dei livelli molto alti io il testo ce l'ho dal voto devo essere onesto non è un 10 perché 10 è veramente la perfezione questo non può essere 10 perché ci sono delle piccole incertezze qua e là ma secondo me può ambire pienamente a 9 e mezzo sì 9 e mezzo merita sì ma patch tra l'altro ah c'è una patch di Outeraven no scusatemi no 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 bella foto dinamica tutto in movimento il setup sì è semplice ma di fatto è un ispirato italiano c'è un leggero incrocio delle gambe che dovrebbe essere un po' più in là però sta correndo è contento lascialo contento appunto c'è ragione no 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 Ronin Softair lato davanti e dietro ah vabbè con te ha già vinto perché c'è la patch grande I love Suski è un M7 mi piace mi piace perché è un M7 bello pimpato bello pimpato io le maniche corte la rettina sul bossa montagna ho difficoltà a digerirle anche la fondina tra l'altro per culo ti sta distaccata il giusto per culo penso perché tu l'hai schiaffata sul cinturone che sembra un Templar sembra un PT5 della Templar si vediamo prova del nome l'orologio in che verso c'è l'orologio eh steve oh però al G-Shock come il mio solo che il suo etane eh 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 le maniche corte mi danno un po' di problemi poi magari fanno 40 gradi all'ombra eh però devi soffrire il cinturone oh no i plate poi un po' ciccio china eh sai tu di cosa sto parlando sono un po' combattuto 8 più 8.75 8 più? no di più non me la sento no il plate questo plate qua non mi piace eh ma neanche a me guarda tra l'altro come sta in chiusura qui che si vanno a rotolare si incastra tutti i passanti si incastra tutto ma l'abbiamo visto dal vivo quando l'hanno presentato è cinese purtroppo chiudiamo con qualcuno che è venuto da noi settimana scorsa ma è lui? è proprio lui è il buon Alex The Fury che ci manda uno dei suoi setup di Ghost ma tra tutti i setup belli che c'hai ma lui è troppo ma è uno degli ultimi che ha fatto allora allora partiamo con calzatura ottima anche perché quella che indossa non è la scelta che farei io torno a dire la retina che porta in cintura è un pezzo importante perché tra parentesi è molto comoda in gioco soprattutto se giocate in boschivo perché vi permette di cacciarvela in testa e soprattutto lui che ha la maschera bianca va a ah c'era questo me l'ha detto me l'ha spiegato in first person e secondo me è molto interessante quello purtroppo che non mi piace perché comunque il plate mi piace l'ha invecchiato l'ha sporcato ha un altro paio di guanti di fianco belli anche i guanti per quanto non siano la scelta che farei io belli gli occhiali da sole belle le cubiche sono delle sordi tra l'altro se non sbaglio bello shoulder pad l'imbottituro ma a me queste repliche qui sparapiselli maggiorati ma sì vi giuro non li posso tollerare soprattutto quando è un setup pseudo boschivo perché quanto nel software possano funzionare in un setup come questo il 9 mm con calcio PDV e il resto non mi piace belli gli accessori bella il silenziatore tan bello le robe però no mi trovi mi trovi d'accordo poi stop non puoi neanche giudicarlo troppo perché è semire è uguale ma poi comunque ne ho scelto uno che funziona bene la scarpa nera leggermente bianchina che riprende la maschera la replica purtroppo per me fa perdere dei punti sarebbe stato a mio avviso anche sapendo quanto sia stato speso un 9 e mezzo la replica però fa tanto do un dall'8 al 9 per dare un voto che non abbiamo ancora ma che c***o quindi dall'8 al 9 cosa vuol dire dall'8 al 9 i numeri decimali vuol dire dall'8 al 9 è un 8 virgola cosa 83 ma bene bene questo video molto provante è arrivato al termine davvero ci siamo divertiti tra l'altro a farlo parecchio è un contenuto molto tranquillo molto sciallo voi vi siete divertiti si no non lo so tu metti like tu metti like fatacelo sapere così lo sappiamo anche noi comunque sempre formato nuovo stiamo cercando di testare la vostra attenzione stiamo cercando di farvi scoprire nuove sponde del piacere ti sei un po' perso alla fine la riprendo io 1500 like mi raccomando per nuove sponde del piacere nuove sponde del piacere esatto scrivete super sex no è la nuova serie su rocco è in tendenza oh andiamo in tendenza ma davvero rocke cv team le monde quindi mi raccomando 1500 like e soprattutto ancora più importante monopoli software shop per acquistare incredibili prodotti software tattici vi giuro che ve la faremo capire vi ringraziamo di aver visto questo video vi auguriamo un sabato e una domenica piena di partite di softair e come al solito stay angry io vi noi vi io vi noi perché è proprio cioè sei gnocco cioè tutti quanti smettono ma tu recidivo decidi che no la vuoi io la uso vi ringraziamo di aver visto questo video vi auguriamo uno splendido sabato e una domenica piena di bestagnie grazie a tutti grazie a tutti